Bomby! Jax! Siamo stati derubati! Tutti i dolcetti sono spariti! Allarme all'orizzonte! Mi hanno rubato tutti i dolcetti! È stata lei! No, 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 no! Un attimo! La polizia metterà le cose in chiaro! È un errore madornale! Poliziatto Kane è a disposizione! Non portatemi in prigione! Parleremo al distretto, tesoro! Ecco, vieni! E stai ferma! Ora ti perquisisco! C'è qualcosa di interessante! Sapevo che avevi un segreto! Cos'altro c'è qui? Altre patatine? Hai bisogno di una bella scossa! Ottimo! Tutto libero! Stai qui! Tieni il cartello! E cerca di non rovinare l'inquadratura! È terribile! Ehi! Che succede? Ehi ragazzi, per favore! Premete su mi piace per aprire le mie catene! Oh, grazie! Bene, bene, bene! Un pericoloso ladro di dolcetti è stato catturato! Splendido! Il caso è chiuso! Ottimo lavoro! Presto sostituirò ragata come poliziotto del mese! Vedrete! Oh, grazie! Grazie mille! Pomni! Come faccio a salvarti? Sono poliziotto Kane e ho appena catturato un criminale molto pericoloso! Ce l'ho fatta! Sono fantastico! Buon Dio! Ed ecco le prove incriminanti! I filmati delle telecamere di sorveglianza della scena del crimine! Aspetta un attimo! La storia non ha senso! C'è un orecchio che fuoriesce? So chi è stato! Mia sorella pagherà per questo! Jax! Sei qui! Ti prego, aiutami! So chi ti ha incastrato! Ehi, Bubble! E addio! Agente Kane! Io ho... Aspetta! Sono occupato! Volevo dirle che ho una pista! Aspetta! Sono impegnato! Bene! Posso aspettare! E il mio tesoro? Ok, ho finito! Spara! Sono tutto orecchi! Omni non ha commesso il crimine! Ho scoperto chi è stato! Ecco! Vedi l'orecchio? È stata mia sorella! Omni è innocente! Cosa? Ho sbagliato? Mi toglieranno tutte le medaglie! Che schifo! Perdente! Il peggior poliziotto di sempre! Addio alla mia carriera! Non succederà! Dammi quel telefono! Subito! Nessuno lo vedrà! Basta così! Vattene! Mi dispiace, Pomni! No! Sorella cattiva, Jaxie! Sì! Ce l'ho fatta! Omni è stata arrestata! Favoloso! Posso cancellarla dalla lista? Aspetta! Ho un asso nella manica! Ho in mente qualcosa di meglio! Ehi, signor Kay! Vattene! Gli estranei non sono ammessi qui! Devo vedere Pomni! Cinque minuti e basta! Cinque minuti sono tutto quello che hai! Oh! Smettila! Sto arrossendo! Ding dong! Che c'è? Cosa c'è? Tu! Aiuto! È un tentato omicidio! Cosa? Che dramma! Ho da fare! Oh sì! Un piano perfetto! Sono un genio! Adoro i denti! Pronto? Sì! Arrivo! Jax! Guarda cosa ho trovato! Cosa ci serve? Non ne ho idea! Ragazzi, scrivete qui sotto quale di queste cose mi aiuterà ad aprire le sbarre! Prima! Seconda! O terza! O quarta! Per favore, aiutatemi a scegliere! Cosa? Il martello? Grazie! Sei serio? È peggio di quanto mi aspettassi! Ok! Aspetta! Devo pensare! Ehi, Jax! Proviamo a usare la lima! Ottima osservazione! Sei così brillante! Tutto bene lì? Bene! Un'eternità dopo... Non ce la faccio più! Userò... Questa! Stai indietro! Farà molto rumore! Non lo farà! Sei in arresto! Aspetta! Dove stai andando? Tu! È lei! È lei la criminale! Siete entrambi in arresto! Addio, Kane! Beh, oggi almeno arresterò qualcuno! Addio! Beh, se ne sono andati tutti! Cos'è questo rumore? C'è un ragno enorme! È per questo che mi hai svegliato? Non importa! È solo un ragno! Calma! Smettila di fare i capricci! Ci penso io! Sono un eroe! Povero ragno! Fermo! Torna in cella! Devo almeno provarci! Ragazzi! Sono felice di vedervi! Ho i rinforzi! Ecco! Possiamo andare! Fermi! Perché siete in tre? Aspetta! Chi di voi devo arrestare? Non riesco a capire! Ragazzi! Ditemi chi di loro è il vero Pommi! Scrivetelo qui sotto! Potresti essere tu? Chi è il prossimo? Che di voi è Pommi? Ops! Tu! Il mio spuntino! Stammi bene! Ecco! Siamo rimasti con una sola Pommi! No! Non scapperai da me! Ciao! E tu chi saresti? Capitano Ragata! Non ti sembro familiare? Ecco il mio distintivo! Calma! Siediti! Ecco come stanno le cose! Abbiamo ricevuto l'ordine di trasferire la detenuta Pommi in un'altra prigione! Quindi devo trasportarla! Ok! Ecco le chiavi! Grazie per il tuo servizio! Ottimo lavoro, agente! Addio! Aspetta un attimo! È un po' sospetto! Ehi, Kate! Come va? Sto arrossendo! È così romantico! Questo è per te, donna del mio cuore! Dovresti andare tu sul tabellone d'onore! Una coda? Sparisci, signor orecchione! Ho il cuore spezzato! Sono di nuovo solo! Ehi, Pommi! La tua colazione! Dell'ottimo porridge! Non c'è qualcos'altro? Ho degli snack! Vuoi? No! Io amo le patatine! Posso averne un sacchetto? Come vuoi! I dolcetti li mangio io! I dolcetti fanno schifo! Mi suona una campanella in testa! Rivedrò il caso! Cosa? Un messaggio? Un negozio di dolciumi è stato rapinato! Di nuovo? Accidenti! Da quello che sembra ho commesso un errore! Le mie deliziose patatine! A Pommi piacciono le patatine! Non i dolcetti! Non è una ladra di dolci! Accidenti! Non mi merito questa medaglia! Un nuovo ricercato! Jaxi! Sono un sacco di snack! Ehi, fratello! Cos'è? Hai saccheggiato un altro negozio? Chiamo la polizia! Butta il telefono! Calma, sorellina! Calma! Oh, certo! Come no! Non ricordi nulla, vero? Da bambina portavo l'apparecchio per i denti! E non potevo mangiare i dolcetti! Era l'unica cosa che volevo! Pommi! Vuoi del cioccolato? Non mi piace! Tu davi a Pommi tutte le merendine! E lei le buttava via! Oh no! Nessuno si muova! Polizia! Sei in arresto per tutte le rapine ai negozi di Dolciumi! Mi arrendo! Sei un vero e proprio razziatore di caramelle? Lo so! È a causa del mio trauma infantile! Pommi! Sei libera di andare! Scusami, bra! Sei scusato! E non sono il tuo bra! Finalmente sei libera! Torniamo a casa! Chi è stato incredibile? Io! La giustizia ha prevalso! Alla fine sono degno della medaglia! Sono il poliziatto dell'anno! Ehi, Kane! Ehi, fratello! Sorpreso, eh? Oh! Chi è lei? Addio! Pommi! No! Che cosa hai fatto? Buon compleanno, Jax! Che è successo? Ciao, amici miei! Jackie! Non farlo! Eccone altre! Mh! 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 Prendi questo! Ah! Jackie! Perché l'hai fatto? Ah! La mia testa! Come sono finita qui? Mh! Cosa c'è nelle scatole? Apriamone una! Ah! Sono qui! Sono pronta a distruggerle! Da dove inizio? Ragazzi, quale scatola dovrei distruggere per prima? Scrivetelo qui sotto! Imploriamo! Non fatelo! Grazie! Ecco fatto! Cosa? La mia pistola non funziona! Devo aggiornare le mie armi! Oh sì! Iniziamo con un lecca-lecca gigante! Chi è goloso di dolci? Accidenti! È così allettante! Non riesco a resistere alle caramelle! Cerca solo di non strozzarti! Sarà divertente! Delizioso! Ai! I miei denti! E il dolore all'ancinante! So cosa fare per i denti cariati! Hanno bisogno di cure! Paziente? Apri la bocca! Oh! Aiuto! E il primo è andato! Siamo partiti alla grande! Smettetela di fare rumore! Cerco di dormire qui! Cosa? Oh ragazzi! Ma è Zubol! Che sta succedendo lì? Il rumore mi ha svegliato! Potresti fare silenzio? Sono tutta orecchi! Cosa hai detto? Sto cercando di dormire! E sei una spina nel fianco! Oh scusami! Mi farò perdonare! Fidati! Ho un po' di fame! Il mio stomaco brontola! Qual è la prossima scatola? Ho fame! C'è nessuno! Credo di avere trovato un gattino affamato! Ecco un escatopo per te! Vai pure! Un topo! Nella mia scatola! È da paura! Ops! Ciao! E addio! Oh cavolo! Era che disauros! Attimo lavoro! Chi si nasconde qui? Nessuno? Ti troverò comunque! Non puoi scappare da me! Mi gira la testa! Ops! Fregata! Non potrei fare del male a nessuno in questo modo! Premi qui! Ma sono confuso! Dovrebbe funzionare! Ma dove sono? Ehi! È un ricordo! Cosa? Premi su play! Dobbiamo capire di cosa si tratta! Play! È difficile divertirsi da soli! Fratello! Giochiamo insieme? No! Non mi va! Gioca con me! Voglio giocare con Pommy! Ecco fatto! Mio dolce orsetto! Io me ne vado! Fai pure! È una guastafeste! Hanno rovinato il mio giocattolo! Non è un problema così grande su con la vita! Cavolo! È devastante! Povera Jackie! Guardiamo un'altra clip! I giocattoli sono miei ora! Li rivolgo indietro! Pianni ucolone! Jackie, dai a Pommy i suoi giocattoli! A lei! Non esiste! Lasciami stare! Jackie! Perdente! È passato un po' di tempo! Ragazzi, come vi comportate con i bulli della scuola? Scrivetelo qui sotto! Jackie! Ah, sei ancora un perdente! Tieni qui! Ragazzi! Ora mi libererò di... Ha slegato la corda! Te ne pentirai! Hai visto? Non va affatto bene! Sta venendo di qui! Attento! Ban-Ban! Oh, cavolo! Il lato oscuro ha avuto la meglio su di lui! Meglio andarsene! Agente! Che fortuna! Devi subito tirarmi fuori dai guai! Jackie ha preso tutti i miei amici! E poi ha posseduto Ban-Ban! Potresti aiutarmi? Sì, certo! Per ora sei in arresto! Oh? Perché? Al distretto! Confesserai tutto! Voglio sapere dove sono Pommy, Jackie e Kane! Sputa il rospo! Non so nulla! Sono innocente! Demmi dove sono! Perché mi stai accecando? Molto meglio! Ah sì? In questo caso... Non farlo! Raccontami tutto! Ecco fatto! La mia piccola carota! Sei contento ora? Che cattiveria! Ok, ti dirò tutto! La colpa è sua! Lei? Voglio dire... Siete come due gemelli! Ingannare la polizia è un reato! Cavolo! Ora è meglio scappare! Prendi questo! Ai! I miei occhi! Sono riuscito a scappare per un pelo! Pomni! Dove sei? Jackie! È tutta colpa tua! Sei imperdonabile! Mi mancate molto! Jax! Aiuto! Salvami! Oh! Ragazzi! Vi salverò io! C'è qualcuno qui! Credo che non ci sia nessuno! Che spreco di tempo! Ehi, coniglietto! La stai cercando? Oh no! Selene! Ti salvo io! Ora sono armato! Sì! Mettilo al tappeto! Arrenditi! Ops! Che solletico! Dai un bacio d'addio alla tua amica! È il tuo turno! Mi arrendo! Rendi! Che cosa hai fatto? Perché sono tornati? Evviva! Jax! Ci hai salvato! Non siamo proprio saldi! Sono onnipotente! Afferrate subito le mani! Sì! Ci sto! Il potere dell'amicizia ci aiuterà! Sta funzionando! Ah! Stupidi animaletti! Prendi questo! No! Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Possiamo andarcene! Siamo in orario per la lezione! Oh, Jax! Sei il migliore! Pomni! Non sono riuscito a salvarti! Jax! Sarai mio! Cosa sta facendo Kittisaurus? Lo sapevo! È la tua immaginazione! Ai! Selene! Sei crudele! Ops! La mia testa! Ai! Fa male! Uomo in piedi! Che cos'è? Oh! Qualcuno pensa di potersi nascondere? Delirante! Tu! Non c'è via di buga! Ma è vuoto! C'è chiaramente qualcuno nella scatola! Preso! Nessuno! E arriva Bamban! Arriva Bamban! Ora sono arrabbiato! Chiunque si nasconda qui sarà davvero dispiaciuto! Anche qui non c'è nessuno! Non ho intenzione di mollare! Li troverò tutti! Ops! Il mio piede! L'altro! Li raggiungerò ad ogni costo! Ahà! Beccati! Ragazze, fate la pace! Ora avete chiuso! Prendi questo! Ahi! Fa male! Ehi voi! Shhh! Era un colpo d'avvertimento! Oh no! Finalmente! Addio animali! Siete pronti? Cosa stanno combinando? Al lavoro! Ahi! Oh! Povero Bamban! Hai imparato la lezione? Ecco! Portale! È mia! Fate attenzione! Questo è... Ah! Che giornata meravigliosa! Ehi! La devo finire! Che bei capelli, Bambalina! Ehi, signore! Che succede a Bamban? Ah! È stato ucciso! Povero Bamban! Morire il giorno del suo compleanno! Che sfortuna! Ehi! Aspetta, Selina! Sei stata multata per eccesso di velocità! Velocità? Perché? Come hai potuto? Era così giovane! Aveva tutta la vita davanti! Ehi, ragazzi! Ehi, Bamban! Oh! Piantala! Ragazze, guardate che c'è! Ehi, là! Bamban! Sì, sono io! Ma non sei morto! Sei un fantasma! Come è successo? Non posso dirlo con certezza! Devo pensarci! Potrei essere stato attaccato dai ninja! Ho reagito come un eroe! Ma erano più numerosi di me! Ninja! Ma certo! Beh, poteva essere un meteorite! Mi è caduto addosso e... Bang! Sulla mia testa! Un meteorite! Davvero? Quel giorno il numero di meteoriti sulla Terra era pari a zero! È chiaro che non era un meteorite! Non ne ho idea, allora! Calma! Il detective Bambalina si occupa del caso! Prova numero uno! Prova numero due! Prova numero tre! È mio! Grazie! L'ho cercato dappertutto! Prova numero quattro! Misteriosa bava di lumaca! Che schifo! Bene! Definiamo i probabili sospetti! Siamo tutti noi! Sei stata tu! No! Tu! La macchina della verità arriverà fino in fondo! Chi pensate sia il responsabile? Bambalina? Kittisauro? Chef Pixter? O Slow Selina? Scrivilo qui sotto! Affascinante! Gira in modo pazzesco! Ehi! Tu sei il primo! Siediti! Io no! Prima le signore! Io no! Io verrò dopo! Siediti! Subito! Ho bisogno di un minuto! Ok! Mi siedo! Metti il dispositivo! Eh? Non importa! Sputa il rospo! Ok! Sei tu il colpevole? Zitta! Ma perché urlare a squarciagola? Spegni la lampada! Cosa? Voglio fare un pisolino! Ehi! Sveglia! Allora! Ok! Starò sveglio! Ho fatto le mie cose per tutto il giorno! Ballavo! Cucinando la mia zuppa! Bugiardo! Sei colpevole! Oh! Tesoro! Ti sbagli! Lascia che ti aiuti! Grazie! Ammettilo! Ok! Il fatto è che è tutto il giorno che ho voglia di torta! Voglio una torta! 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 Non ce la faccio più! Ho bisogno di una torta! 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 La domanda è... Dove la prendo? Mancano sette ore al compleanno di banbane! Non posso resistere così a lungo! Oh! Eccola! La torta dei miei sogni! Vieni qui! Oh! Vieni da papà, tesoro! Ho rubato la torta! Questa è la verità! Oh cavolo! Come hai potuto? Sei un maiale! Mi dispiace tanto! Pensate che dovrei perdonare Chef Pixter? Sì o no? Scrivetelo qui sotto! Perdonami! È davvero imbarazzante! Banban, guarda i commenti! Ok! Ti perdono! Grazie! E grazie a voi, ragazzi! Chef Pixter è fuori dai giochi! Kittisauro! Cosa stai nascondendo? Metti il rilevatore e dicelo! Ecco il corpo del reato! Ops! Questo viene dal mio archivio! Oh! Bene! Ti dirò la verità! Mi sono rilassata sul divano per tutto il giorno! Mi sono lavata la faccia! Ho bevuto il latte! E pare che fosse scaduto! Ecco dove sono stata tutto il giorno! Oh no! Boggiarda! Colpevole! Beccata a mentire! Bene! Dirò la verità! Ecco cosa è successo davvero! Mi è caduta la mia palla preferita! La rincorsa! È rotolata nella stanza di Banban! Ho iniziato a giocare lì, così! Ho accidentalmente combinato un pasticcio! Mi dispiace tanto! Bene! Sei innocente! Io! Ottimo! Il prossimo! Tu! Io! Ok! Arrivo! Bisogna metterle fredda! Vuoi una bevanda energetica? Ti accelererà! Grazie! Sono a posto! Ha rifiutato la bevanda energetica? Provo io! Ehi, Celine! Prendi uno sneakers! Non mi piacciono le noccioline! Ci sono quasi! Ehi, detective! Sei qui! Metti il rilevatore e parla! Beh, stavo correndo come una pazza! Ok! Mi stavo muovendo come al solito! Stavo strisciando verso la festa di compleanno di Banban! Con un regalo! In quel momento, ha visto Banban e Banbalina ridacchiare ed entrare insieme nell'ufficio! Che schifo! Un sacco di smancerie! Menti! Stai inventendo! La macchina della verità dice che è la verità! Ok, colpa mia! In pratica, ho continuato a strisciare lungo quel corridoio! E ancora... E ancora... E ancora... E ancora... Ah, facciamo scorrere velocemente la tua storia! Finalmente sono qui! Giusto in tempo! Come mai la tua bava era sul tappeto? È comparsa quando sono entrata! Da quello che sembra, sei innocente! Beh, qual è il legame tra i sospetti, le loro foto e le prove? Accidenti! Sono così confusa! Oh, Banban! È per te! Che gentile! Scusa! Mi serve un minuto! Ehm... Cosa? Ora siediti tu? Sì, certo! Beh, quel giorno io... Ecco... Ehm... Sì, certo! Ho dimenticato il rilevatore! Beh, quel giorno ero impegnata a fare le mie cose da insegnante! Stavo controllando il test e... Ops! Sei tu l'assassina! No, no, no! Avete sbagliato tutto! La verità è che io e Banban stavamo ballando e ci stavamo divertendo! Un momento mi ha tolto gli occhiali per baciarmi! Ma siamo stati interrotti! Alla faccia del romanticismo! Che coppia dolce! Adorabile! Dov'è la carta? Oh! Oggi non è il mio giorno fortunato! Banban e Bambalina seduti su un albero per un bacetto! Ragazzi? Lo so! Cosa? Che succede? Mi sono accorto di avere una telecamera di sicurezza! Eccola! Vedremo chi mi ha ucciso! Sbreghiamoci! Guardiamo il filmato! Allora? Più veloce! Non vedo l'ora di saperlo! E di andare in bagno! Un minuto! Ecco! Trovato! Questo è Banban! E questa è una palla da discoteca! Quindi quella è l'aggressore! Potrebbe essere ancora vivo, ma solo privo di sensi! Chiamiamo l'ambulanza! Ehi! Venite subito! Dottore, salvi Banban! Ci penso io! Libera! Mio figlio! Papà! Ti ho aspettato da una vita! Papà! Torna in vita! Ti riporteremo in questo mondo! Papà! Mi dispiace, figliolo! Ne ho davvero bisogno! Cosa? Forza, Banban! Torna in vita! Eww! Eww! Il mio corpo! Arrivo! Fantastico! Non sono morto! Scusatemi! Fate largo! Ehi, la! Banban! Sei vivo! Sono in debito con te, Doc! Amici! Siamo tornati insieme! Ehi! Siete invitati alla mia festa di compleanno! Wow! Che bello! Ci saremo! Ehi, la! Ehi, la! Ehi, la!